Gentili telespettatori, buona giornata. Beppe Grillo dice che rischiamo di chiudere. Conti in rosso per il blog del comico genovese. Nell'ultimo bilancio della società che gestisce il blog del comico emerge una situazione non proprio rosea, tanto che sul tavolo c'è l'ipotesi liquidazione. Ma io mi faccio una domanda. Liquidazione, società che gestisce il blog. Ma per gestire un blog ci vuole una società. Ma stiamo scherzando. Il blog è una roba che compri, non so quanti euro dai, ma poca roba. Compri un dominio e ti metti lì e pubblichi un messaggio. Non so, ogni quanto pubblica un messaggio grillo. Ma mi volete far credere che dietro un blog fatto in internet c'è una società e il bilancio, il fallimento, i conti? Per i conti sono che per mio zia Antunea lo... Quali conti in rosso per un blog? Un blog lo posso aprire anch'io. Cosa mi costa? 15 euro all'anno? Aprire un dominio e mettermi lì a creare un giornale online? Poi i blog ricevono le pubblicità, un po' come YouTube. Però, insomma, un blog lo puoi fare con pochi soldi. Non vedo tutta questa roba. Però, dice Beppe Grillo che piangono le casse della società che gestisce il blog del garante del Movimento 5 Stelle. Un passivo di 12.457 euro. E come li ha spesi sti soldi in una pagina di internet? Un'agenzia di stampa ha visionato la relazione al bilancio, in cui viene spiegato che l'andamento della gestione è stato fortemente influenzato dall'emergenza Covid. Questo perché nel periodo di pandemia il blog di Beppe Grillo ha avuto una drastica riduzione dei fruitori e clienti richiedenti pubblicità sul web. Ho capito. Ci sono clienti che possono mettere o non mettere la pubblicità. Quindi possono entrare tanti soldi, pochi, ma le spese quali sarebbero? A meno che lui non abbia messo un dipendente. 12.450, magari ha messo lì un dipendente che tutto il giorno fa qualcosa, pubblica qualcosa. Se no non mi spiego a che cosa sia dovuto il negativo. E così il risultato del 2020 è inferiore all'esercizio precedente. Quando il blog di Beppe Grillo aveva fatto registrare un risultato positivo di 65.000 euro all'anno. Caspita, 65.000 euro sono più di 5.000 euro al mese di attivo. Pubblicità, ovviamente sono pubblicità. Un calo netto ed evidente che potrebbe essere solo un primo campanello d'allarme per una situazione che non pare essere destinata a migliorare rapidamente, che potrebbe portare a conseguenze importanti per la società. Infatti, come si legge nella nota integrativa, a causa della pandemia le imprese commerciali in genere hanno ridotto drasticamente i costi per la pubblicità. Io vi posso dire, invece, che in YouTube, quello che ho visto sul mio canale, non si è ridotto proprio niente. Con la pandemia non si è ridotto proprio nulla. Boh. Di solito, quando c'è crisi, le aziende investono in pubblicità. Non diminuiscono la pubblicità. Investono in pubblicità. Non so cosa sia successo sul suo blog. Probabilmente non è una riduzione di costi dovuti al Covid, ma si vede che alle aziende che facevano pubblicità sul blog di Beppe Grillo ormai non risulta più così interessante fare pubblicità sulla pagina di questo comico. Il movimento è inesistente, pertanto probabilmente le aziende non interessa più pubblicizzare su questo blog. Si conta nel corso del bienno 2021-2022 nuovi contratti pubblicitari si pongono questo obiettivo nel caso in cui questo non dovesse avvenire tempestivamente, infatti la società sarà messa in liquidazione. Io credo che probabilmente in questo blog ci lavorino delle persone. Perché se il blog lo gestisce Beppe Grillo a casa col suo computer, quali costi deve avere? Se arrivano pubblicità, bene. Se non arrivano, cosa hai speso? 15 euro all'anno di dominio. Quindi dietro il probabile fallimento di questo blog significa che dietro lui ci aveva messo delle persone a lavorarci in questo blog. Dice che la società deve far fronte a una riduzione di depositi bancari pressoché di mezzati stando al rendiconto le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante passano da 54.000 a 27.000 euro. Anche il patrimonio netto cala passando da 139.000 a 126.000 euro. I debiti passano da 31.000 del 2019 a 12.000. Scendono anche i costi di produzione che nell'anno prima della pandemia erano 151.000 euro. Costi di produzione per un blog. Per passare a 70.000 euro nel 2020. Crollo importante per i ricavi delle vendite e delle prestazioni che scendono da 240.000 euro del 2019 a 57.000 euro del 2020. probabilmente il blog rispecchia il fallimento del Movimento 5 Stelle che adesso sta in piedi ovviamente. I votanti sono una sorta di voto di scambio. Quelli che prendono il reddito dicono di votare 5 Stelle perché se i 5 Stelle vanno via dal governo è finito anche il reddito. Quindi il Movimento 5 Stelle senza il reddito di cittadinanza non sarebbe niente. Il documento riporta anche che a seguito della crisi Covid dopo la chiusura dell'esercizio 2020 è stata notificata dal cliente Mobi S.p.a. una richiesta di accordo bla 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 per valutare un accordo di rientro per il credito vantato della Beppe Grillo S.r.l. per 73.000 euro Diciamo che questo probabilmente non è un semplice blog è una società con dei dipendenti che utilizza un blog per pubblicità perché se fosse come vi dicevo un semplice blog di quale bilancio stiamo parlando di un blog insomma io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale ricordatevi che c'è anche Tele Italia Seconda Rete dove trovate tanti video non solo di politica ma anche di fai da te grazie a tutti e ricordatevi che questi video che trovate su Youtube Tele Italia e Tele Italia Seconda Rete li trovate poi anche in Facebook dopo qualche ora in modo che lì vi possiate condividere con chi volete grazie arrivederci alla prossima